E' un piacere avere e riavere con noi William Gidai che ha lasciato un ottimo ricordo ad Avellino. Partiamo inevitabilmente però da un commento di questo pareggio. La Provercelli ci ha provato a cingere da sedio l'aria dell'Avellino per portare a casa i tre punti ma ha retto la difesa dell'Avellino. Pur non brillantissima la prestazione dei Biancoverdi si torna in Irpinia per quanto riguarda l'Avellino con un punto. Voi invece dovete insomma recriminare perché le occasioni principali le ha avute la Provercelli. E' diciamo che sul nostro tabellino di marcia oggi era importantissimo vincere però come hai detto te l'Avellino si è chiuso benissimo e purtroppo io penso che ci è mancato solamente il gol. Anche dal punto di vista dell'occasione le abbiamo avute numerose solo che purtroppo non siamo riusciti a finalizzare proprio perché l'Avellino si è chiuso bene e niente comunque ci prendiamo assolutamente il punto. Oggi in panchina stagione un po' travagliata la tua per qualche problemino fisico. La tua esperienza qui a Vercelli? Sì, purtroppo ho avuto qualche problema a livello fisico e questo diciamo che a livello personale ha un po' condizionato la stagione però come si suol dire c'è il gruppo l'importante è mettere anche l'esperienza e incoraggiare i compagni anche se si è fuori quindi la mia disposizione c'è sempre e quindi bisogna metterle sempre a favore del gruppo questa è la cosa più importante perché poi dopo l'obiettivo è unico e di squadra. Il tuo ricordo dell'esperienza ad Avellino e se c'è un pizzico di rammarico per non aver avuto l'opportunità di continuarla? Quello sicuramente l'Avellino lo porterò sempre come nel cuore diciamo che è stato per me il mio punto massimo anche a livello di carriera sia nell'indossare la maglia sia per quanto riguarda il pubblico che mi ha fatto sentire sempre un giocatore importantissimo assolutamente quindi porterò sempre i colori bianco-verdi nel mio cuore si sa c'è parte della mia famiglia che vive lì quindi è una città che porterò sempre con me che sicuramente anche in futuro verrò sempre a salutare con piacere. Impresa Ardua perché devo scalare una montagna il passello auricolare a Gidai andiamo pure con le domande da studio vai Sonia. Allora io mi complimento semplicemente lascio la parola a Luca Sposito perché è molto curioso. No 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 la mia domanda è questa Gidai è stato a Castellammare è stato ad Avellino a Parenti a Salerno quindi la mia domanda è questa domanda più che la curiosità quando ti manca la Campania? Guarda mi manca tantissimo soprattutto dal punto di vista del cibo si può dire no scherzo mi manca veramente tanto no no dai a parte gli scherzi anche questo è seriamente parlando però no ho passato veramente cinque anni bellissimi come avete detto fra Castellammare e Avellino questo mi ha permesso veramente di poter vivere comunque una bellissima esperienza al sud la porterò sempre con me e tornerò sempre perché come ho detto fortunatamente metà della mia famiglia fa parte della Campania quindi potrà sempre tornare assolutamente anche perché stasera si manda la missa stasera sì no stiamo a dieta stasera perché poi giovedì dobbiamo giocare di nuovo grazie 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 mille grazie